recuperiamo 15 secondi 10 se vediamo il carico magari l'abbiamo trovato ma un pochino sottostimato possiamo anche recuperare il meno ovviamente questo è un CRM trovato in modo veloce sicuramente sottostimato quindi recupero molto meno poi andrò ad incrementare di più nelle serie successive e allora a quel punto potrò tornare al classico regime dei 15 secondi di recupero ok in questo caso ho sbagliato e non ho fatto l'eccentrica dopo la prima concentrica cercare sempre di farlo la fase centrica finale e finiamo qua la serie da 6 vedo il carico è un po sottostimato aumenterò di più nella serie da 5 ripetizioni allora ragazzi ho fatto un incremento maggiore andiamo a vedere la serie da 5 diciamo che forse anche questo incremento maggiore incrementato 6 kg forse può essere sottostimato in base all'esercizio calcolate che potete anche aumentare di più in base alla vostra forza specifica sul quadri del minato ristretto sul quadri del minato esercizio anche qui cercherò di recuperare di meno per evitare di rendere meno allenante la serie